La Guardia di Finanza scopre una abbadante che con un finto testamento era riuscita ad acquisire due immobili di proprietà di un anziano al quale avrebbe sottratto anche 60.000 euro. Arrestato dalla polizia di Fano, un uomo esperto in colpi e danni delle banche operava con una banda specializzata in tutta Italia. Le marche in zona gialla aumentano i clienti nei negozi ma gli appari stentano a decollare. Ecco la situazione a palla. Sette comuni marchigiani in osservazione a causa dell'aumento dei contagi in provincia. Massima attenzione ad Acqualagna, Petriano e Fossombroni. A Fano arriva la nuova flotta di mezzi elettrici per il trasporto dei pasti nelle scuole. Ne distribuiranno 2.000 al giorno. Occhio alla notizia. In studio, Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo questa edizione con l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, nei guai una badante 73enne che aveva presentato un falso testamento acquisendo due immobili di proprietà di un anziano che accudiva al quale la donna avrebbe sottratto anche 60.000 euro. Letizia Marchionni. La Guardia di Finanza di Pesaro ha dato esito al sequestro di due immobili e 60.000 euro a carico di una badante 73enne. Le indagini sono partite dalla richiesta dell'amministratore di sostegno dell'anziano che in occasione della presentazione del rendiconto finanziario aveva chiesto ulteriori approfondimenti ispettivi in relazione alle presunte appropriazioni eseguite dalla badante dell'uomo. I controlli hanno permesso di scoprire un ingente flusso finanziario in uscita dal conto dell'assistito in favore della badante pari a circa 60.000 euro, costituito da spese ingiustificate che non avevano nulla a che fare con le ordinarie finalità di accudimento. Inoltre la donna aveva acquisito la titolarità degli immobili attraverso un falso testamento olografico dell'anziano che accudiva, deceduto alla fine dello scorso anno dopo aver sofferto per anni di gravi patologie neurologiche. Nei giorni immediatamente successivi alla morte dell'assistito, infatti, la badante aveva presentato agli uffici di un notaio pesarese il falso testamento in cui era previsto il trasferimento a suo favore della proprietà di due immobili dell'uomo. Le indagini svolte hanno evidenziato come la data dell'atto scritto in stampatello fosse successiva a quella indicata nel verbale della commissione medica che aveva riconosciuto la totale incapacità dell'anziano ad adempiere ai normali atti della vita quotidiana. La 73enne, inoltre, aveva presentato la dichiarazione telematica di successione all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione, nonostante vi fosse un'altra persona con questo status, di essere l'unica erede. I fatti di appropriazione indebita e circonvenzione di incapace sono stati riferiti all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro delle somme e degli immobili legalmente sottratti dalla donna. Aumentano i furti, aumentano i furti soprattutto con le riaperture. La Polizia di Fano intensifica i controlli in alcuni quartieri della città, in particolare Sant'Orso, la zona del Flaminio e anche il Pincio nel centro storico. Arrestato un uomo esperto di colpi in banca con la tecnica della spaccata, faceva parte di un gruppo organizzato, un gruppo specializzato attivo su tutto il territorio nazionale. Angelica Panzieri. Con le riaperture sono aumentate le presenze dei malviventi, legate in particolare ai furti. Per questo il commissariato della Polizia di Stato di Fano, in collaborazione con la Polizia stradale, ha svolto mirati servizi di prevenzione per intercettare questi fenomeni. I controlli si sono concentrati nelle zone di Sant'Orso, del Flaminio e del centro storico, in particolare nella zona del Pincio. Grazie al coordinamento con la stradale, gli agenti del commissariato hanno potuto arrestare un cittadino italiano già esperto in tema di furti alle banche. Le forze dell'ordine non hanno visto muoversi con fare sospetto nei quartieri di Sant'Orso, Rosciano e Centinarola. L'uomo a bordo di un'auto, assieme ad un'altra persona, alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi lungo la Nazionale Adriatica, dirigendosi verso sud. Poi è stato bloccato all'altezza di Marotta. Una volta fermato ha esibito un documento di identità che risultava essere stato contraffatto, motivo per il quale è stato anche denunciato. Gli agenti hanno oppurato a suo carico un provvedimento di fermo che era stato emesso dal Tribunale di Siena, proprio perché l'uomo faceva parte di un gruppo specializzato in furti ai danni degli istituti bancari con la tecnica della spaccata, attivo su tutto il territorio nazionale. E ancora a Sant'Orso è stato fermato un cittadino dell'Est Europa, già noto alle forze di polizia, sanzionato per 5.100 euro poiché guidava senza aver mai conseguito la patente. L'uomo si aggirava in modo sospetto tra le abitazioni del quartiere, nei pressi del centro commerciale e alla vista della pattuglia ha tentato la fuga cercando di raggiungere la superstrada, ma è stato bloccato dai poliziotti all'altezza di Bellocchi. Infine nella zona del Pincio sono stati identificati numerosi giovani, tra questi un maggiorenne fanese già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, poi sequestrata dagli agenti. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un furto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione privata di Saltara, in via del Santuario, vicino all'Istituto delle Suore, nel comune di Colli al Metauro. I malviventi hanno agito tra le 17 e le 19, quando in casa non c'era nessuno. Hanno portato via una cassaforte ad armadio, probabilmente pensando di trovare soldi ed oro all'interno, ma contenenti invece soltanto fucile da caccia. A dare l'allarme gli stessi proprietari dell'abitazione, che si sono accorti del furto una volta rientrati a casa, e che hanno sporto poi denuncia al comando dei carabinieri di Saltara, già intervenuti ieri sul luogo dell'accaduto. Malviventi invece ancora in fuga, le indagini sono in corso. Ed oggi pomeriggio, intorno alle 18, un incendio di sterpaglie nell'area del Boncio di Pesaro, in un canneto di fianco alla ferrovia, ad intervenire i vigili del fuoco, che per spegnere le fiamme hanno dovuto bloccare in via precauzionale anche il passaggio dei treni. Non si sono registrati feriti. Negozi in ripresa dopo il passaggio delle marche in zona gialla. Aumenta il flusso dei clienti nei locali del centro storico di Fano, ma le vendite ancora non decollano. Il bilancio dei commercianti nel servizio di Angelica Panzieri. Da quando le marche sono tornate in zona gialla, anche il movimento nei negozi cittadini di Fano piano piano è ripreso. Siamo andati a sentire il parere dei commercianti. I tempi non sono più quelli del passato. La pandemia ha cambiato anche il modo di lavorare dei negozianti, la maggior parte dei quali ha sempre tenuto aperto anche in zona arancione, ma con incassi ridotti al minimo. Da quando le marche si sono tinte di giallo, con la riapertura di bar e ristoranti qualcosa è cambiato anche per loro. Non per tutti, ovviamente. Qualche cliente ha risposto bene ed è tornato a fare acquisti. Altri ancora stanno aspettando il momento giusto. Diciamo che ci sono segnali positivi perché la gente ha voglia di normalità e quindi inizialmente c'è stato un buon afflusso, poi il tempo non ha aiutato perché la primavera tarda ad arrivare, però come si affaccia un po' il sole aumenta anche il movimento. Quindi siamo fiduciosi nella stagione che sta per arrivare. C'è poco movimento, poco turismo, però i nostri clienti ci premiano sempre, quindi è già un segnale importante. Movimento ce n'è di più, naturalmente, perché la gente si sente più libera di girare, di passeggiare, diciamo così. C'è una cosa molto diversa dalla zona rossa specialmente e anche arancione, perché allora zona rossa e zona arancione la gente guardava dalla porta, magari passava se c'era una persona, aspettava, molto titubante. Adesso invece si sono un pochino più sciolti, sono più tranquilli, anche se devono provare con tutte le norme. Noi facciamo sempre cotton fiocche, usa e getta, non facciamo mai provare i prodotti direttamente dal tester. Dopo, quando c'è il mercato, c'è un pochino più di afflusso, tipo stamattina c'è un po' più di gente in giro. Le vendite non è che siano così decollate in maniera esponenziale, perché comunque hanno paura, soldi non ce ne sono tanti, molta gente ancora non lavora, molti sono in casa integrazione. Noi soffriamo tanto, come piccoli negozi, insomma. Ma movimento c'è pochissimo in giro. Si è smosso un pochettino nel weekend, primo maggio, due maggio, quei giorni lì un pochino. Se no, movimento ce n'è poco, veramente. Sarà che poi il nostro articolo è soggetto anche alla stagione, ancora non è caldo. E adesso la pagina della pandemia con l'aggiornamento dei decessi e dei contagi. Intanto i decessi sono quattro. Nelle ultime 24 ore nelle Marche, tra le vittime non c'è nessuna persona residente nella provincia di Pesaro e Urbino. Invece i nuovi positivi sono 278. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 80 casi, seguita da quella di Macerata, con 61. Nella provincia pesarese i nuovi casi sono 55. In calo i ricoveri per Covid negli ospedali della Regione, che sono 16, in meno rispetto a ieri, per un totale di 459. In terapia intensiva i pazienti sono 68, mentre in semi-intensiva sono 123. Sono invece sette i comuni marchigiani che sono finiti sotto osservazione, secondo quanto riporta l'Agenzia Dire, per aver superato nella scorsa settimana i 250 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti. Si tratta di Acqualagna, Petriano e Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino, Montappone, in provincia di Fermo, e Folignano, Acquaviva Picena e Castel di Lama ad Ascoli Piceno. Lui di prossimo la Regione valuterà i dati di questa settimana, in base al superamento o meno dell'indice dei 259 casi, deciderà se adottare un'ordinanza restrittiva. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché mentre tre comuni sono usciti dalla zona arancione rafforzata, ce ne sono altri che entrano nell'osservatorio per la prossima settimana. Così il Presidente della Regione, Marche Francesco Acquaroli, nel commentare l'uscita dalla zona arancione rafforzata di Monte Labate e Valle Foglia, in provincia di Pesaro Urbino, e Cerreto Desi, in provincia di Ancona. Un dato positivo, che però specifica il Governatore, non autorizza a cali di attenzione. Speriamo siano casi singoli ed isolati quelli che si sono verificati, altrimenti altri comuni rischiano di andare nella zona arancione rafforzata. Conclude Acquaroli. Dobbiamo continuare a stare attenti, perché in due settimane e mezzo siamo passati da 160 terapie intensive a circa 70, ma poi nelle due settimane successive non siamo riusciti a scendere ulteriormente. Siamo praticamente quasi fermi a 69. C'è ancora un livello di occupazione delle terapie intensive elevato che è intorno al 30%. Questo non ci può rendere tranquilli. E adesso vi mostriamo invece la nuova area formativa del Codma di Rosciano a Fano, dopo i lavori della protezione civile, durati quasi due anni. Al piano superiore sono pronte le stanze per aumentare i punti di vaccinazione, ovviamente se arriveranno le dosi dei vaccini. Simona Zonghetti. Sistemato in meno di due anni è diventato un punto di riferimento fondamentale per il comune di Fano e per l'intera regione. L'area formativa del Codma di Rosciano a Fano verrà inaugurata alla fine di maggio grazie a un bando della regione vinto nel 2019. Gli uomini del Cibiclub Mattei, guidati da Saveri Olivi, hanno messo anime e corpo giorno e notte per ristrutturare l'edificio. Dieci volontari all'opera ogni giorno. Erano tanti anni che non veniva più utilizzato, quindi aveva dell'infiltrazione d'acqua, aveva dei grossi problemi. Piano piano all'interno del nostro volontariato, alla nostra associazione, ci sono un po' tutte le maestranze, dai muratori, in pratica l'idraulico, l'imbianchino. Piano piano, durante la pandemia dello scorso anno, con le dovute distanze, siamo riusciti in pratica a fare quei lavori più importanti. Tra gli interventi di tinteggiatura, di rifaccimento del tetto e degli interni, è stato un duro lavoro, ci racconta il Presidente. La decisione poi è stata quella di adiverla non a sede dell'associazione, che invece è rimasta a pochi metri, sempre nell'area del Codma, bensì ad area formativa per tutto il mondo di protezione civile, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Qui, a livello nazionale, si fanno dei training adibiti alla segreteria, all'unità di crisi, alla cucina, alla logistica. Raggruppiamo spesso e volentieri, minimo una volta all'anno, un paio di centinaia di persone, quelle che si devono formare, anche perché l'area fuori, lo spazio verde, come vedete, si presta, e quindi nell'arco di 4-5 giorni riusciamo a montare un campo completo, con tutto quello che serve, e rismontarlo. Per i volontari, prosegue Livi, sono fondamentali sia la formazione che l'esercitazione, oltre a questo sono presenti degli uffici che si prestano a diverse attività. Si è pensato di mettere sul tetto le dovute possibilità di montare l'antenna per tutti gli attori di protezione civile, in pratica ci sono nove postazioni in cui, se succede una calamità, ognuno può collegare la propria radio, mi riferisco a polizia, carabinieri, finanza, hanno la propria calata di antenne, quindi qualora la regione Marche dovesse scegliere questo spazio, ha le postazioni giuste per diventare un com. Si tratta del centro operativo misto, che raggruppa più comuni della vallata, e in questa struttura ci sono ben 41 postazioni di lavoro con internet e telefono per ogni scrivania, perfetto per gestire situazioni critiche o emergenze. Questi spazi, al momento, sono stati messi a disposizione per eventuali e ulteriori punti vaccinali. L'area vasta ha già fatto un sopralluogo su questi uffici, perché non c'è bisogno neanche dei tramezzi, cioè un corridoio. Il classico corridoio, come andavano le case una volta, un corridoio centrale, quattro uffici a destra, quattro uffici a sinistra, quindi si presta bene per l'accettazione e poi la vaccinazione. E questi otto uffici sfociano prima dei bagni e poi all'interno della grande sala, che all'interno ci sono quattro sale, una da 40, una da 50 e una da 160 posti, con una sala a riunione per le videoconferenze. Sbuca in cima questa sala da 160 posti, quindi non si incrociano neanche con chi attualmente il vaccino lo fa al piano terra. Quindi si presta molto bene. Non so se questo si realizzerà, perché dipende molto, credo, dai vaccini. La Giunta regionale approva una proposta di legge per la promozione degli investimenti produttivi nella regione. Ad annunciarlo il governatore Acquaroli. L'obiettivo è rilanciare il sistema produttivo e imprenditoriale delle marche, favorire la crescita dell'occupazione e la competitività e frenare l'emigrazione dei giovani lavoratori, valorizzando insieme al territorio i suoi sistemi produttivi e tecnologici. È una legge importante, dice Acquaroli, perché supera una visione assistenzialistica dei territori e imprime una discontinuità per rilanciare gli ecosistemi e le filiere che possano garantire alle piccole e medie imprese di aggregarsi all'interno di dimensioni ottimali per il mercato, senza rinunciare all'artigianalità che ha contraddistinto il nostro tessuto produttivo. A Fanno arriva la nuova flotta di mezzi elettrici per trasportare i pasti nelle scuole. I furgoni ne distribuiranno 2.000 al giorno agli alunni degli istituti scolastici che sono nella città di Fanno e questo trasporto avverrà in tutta sicurezza. Saranno dedicati al trasporto di circa 2.000 pasti, prodotti ogni giorno dalle 9 cucine comunali in cui si struttura il servizio di rifezione scolastica del comune di Fanno. Sono i nuovi furgoni in tutto 6, interamente elettrici, che partiranno giornalmente dalla piattaforma di falcineto con frutta, verdure e altre derrate, senza inquinare e nel rispetto dell'ambiente. Sono stati presentati questa mattina nei giardini della scuola primaria Corridoni e rappresentano una delle più significative novità previste dalla gara bandita nel 2020 dal comune di Fanno per la rifezione scolastica vinta dalla ditta Dusman. I furgoni Nissan sono dotati di un'autonomia di circa 300 km e di una capacità di carico di circa 740 kg. Per ogni mezzo si stima una percorrenza media di circa 1.000 km al mese e quindi complessivamente di circa 60.000 km per l'intera flotta nel corso di un anno scolastico. Distanze queste che da oggi saranno garantite utilizzando esclusivamente l'energia elettrica con il totale azzeramento di emissioni inquinanti per l'ambiente. Già in questi anni il servizio di rifezione scolastica di Fanno ha avuto una serie di riconoscimenti importanti anche a livello nazionale per la qualità del servizio e in particolare del menù. Adesso facciamo un ulteriore passo in avanti. Il comune di Fanno è Dusman, la ditta che ha vinto l'appalto di gestione dei servizi di rifezione perché abbiamo rinnovato l'intera flotta dei furgoni per il trasporto, dei 2.000 pasti che ogni giorno le 9 cucine comunali producono e sono 6 furgoni completamente elettrici. Non è cosa da poco, solo qualche numero. Stiamo parlando del trasporto nel corso di un anno scolastico di quasi mezzo milione di pasti su oltre 30 scuole per una percorrenza di oltre 60.000 km. 60.000 km che a partire da oggi saranno emissione zero proprio per questa scelta ecosostenibile sull'elettrico che qualifica ulteriormente un servizio già all'avanguardia. Nel rispetto dell'ambiente è un passo in avanti sia per il comune di Fanno sia per la nostra azienda che comunque presenta questi mezzi innovativi. In più la novità di quest'anno è anche che oltre alla distribuzione di pasti veicolati che vengono prodotti nelle cucine e poi trasportati a sua volta nelle scuole di tutta Fanno vengono trasportate anche le derrate quindi noi trasportiamo le derrate dalla nostra piattaforma che si trova in via Falcinetto, quindi in comune di Fanno vengono trasportate le derrate elementare quindi diciamo la frutta, la verdura, pasta, pomodoro, olio eccetera quindi diciamo che ha un doppio vantaggio inquinamento zero quindi siamo molto contenti e orgogliosi di questa cosa. Ed ora spazio alla cultura. Domenica prossima Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano assieme al Teatro della Fortuna riapriranno al pubblico con le visite guidate in mostra i depositi reinventati che raccontano la vita del città. Visite guidate al Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano si riparte ovviamente in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-covid Domenica 9 maggio alle 10.30 le due strutture apriranno al pubblico inaugurando la prima di una serie di piccole esposizioni temporanee dal titolo Tesori svelati con una visita accompagnata gratuita. Sempre dal 9 maggio sarà riaperto alle visite anche il Teatro della Fortuna ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sarà possibile ammirare il prestigioso sipario storico del pittore Francesco Grandi e ancora visitare i mosaici romani custoditi proprio sotto la platea del teatro. Sempre nello stesso giorno alle 17.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna prenderà il via la conferenza del professor Paolo Clini dal titolo Vitruvio nel Sipario. Nella pinacoteca del Palazzo Malatestiano verranno esposti per la prima volta pregevoli materiali custoditi nei depositi del museo che raccontano tappe importanti della storia di Fano. La prima di queste esposizioni è dedicata all'antica confraternita di San Michele per l'occasione verranno messi in mostra gli abiti che i confratelli utilizzavano durante le processioni solenni. E ancora ogni domenica alle 10.30 ci saranno attività di approfondimento dedicate ad adulti e famiglie. Altre esposizioni sono già in programma nei mesi di giugno, luglio e agosto. La partecipazione alle attività del museo sarà limitata ad un massimo di 5 partecipanti per ogni turno di visita guidata, previa prenotazione obbligatoria, telefonica o via email. Occorrerà presentarsi sempre muniti di mascherina. È un momento importante perché non nascondiamo che questa pandemia ci ha limitato sotto tanti aspetti compreso quello culturale, quello di visitare luoghi importanti come questi. Però l'abbiamo voluto fare in una maniera nuova, valorizzando il nostro patrimonio. In questo periodo di pandemia abbiamo anche fatto dell'altro, abbiamo inventariato tutto il nostro deposito con tutte quelle opere, tutto quel materiale che nel tempo è stato conservato e salvato, perché c'è da dire anche questo, e che purtroppo non è in esposizione. Allora abbiamo deciso con la riapertura mensilmente di dedicare uno spazio del nostro museo a queste opere che sono nei depositi. Ricordiamo che si apre in sicurezza. Sicuramente, ovviamente con numeri contingentati, quindi consigliamo anche di prenotare, perché la scelta anche come è avvenuta alle scale dell'estate scorsa, vogliamo che la città sia viva, che ci siano tante iniziative, ma tutte in sicurezza. Però ecco, quello che mi piace sottolineare è questo nuovo metodo anche di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Anche il Comune di Vallefoglia ha deciso di seguire l'esempio di Fano e di Pesaro e ha deciso quindi di aprire gli spazi delle porte del Palazzo Comunale Laureandi per la discussione a distanza della tesi di laurea. Lo comunica il Sindaco Palmiro Occhielli, che concederà gratuitamente l'utilizzo della Sala del Consiglio e della Sala Alfieri, della sede municipale di Sant'Angelo in Lizzola e ancora della Sala del Cassaro di Montefabbri e della Sala del Consiglio Comunale di Colbordolo. Con questa iniziativa, spiego Occhielli, la Giunta Comunale ha voluto offrire ai giovani la possibilità di vivere un importante momento della loro vita, come quello della discussione della tesi di laurea in un contesto istituzionale che permetta loro di trascorrerlo insieme alle persone più care nel rispetto delle normative anti-Covid. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. telegiornale che è stato curato questa sera da Angelica Panzieri. Grazie per averci seguito, vi ricordo il nostro numero di telefono per le segnalazioni 338 49 68 250, mentre domani mattina alle 7 ci rivediamo in diretta per Occhio ai Giornali. Il commento alla stampa del giorno. Arrivederci.